Una nuova area ricreativa e sportiva per i ragazzi e le famiglie di Rocca Piemonte, un campetto che sarà intitolato a Cristian Campanile, giovane prematuramente scomparso l'anno scorso e che ha lasciato profonde tracce di sé in tutta la comunità. Il sindaco di Rocca Piemonte Carmine Pagano e l'assessore allo sport e politiche giovanili Roberto Fabricatore, visti i lavori ormai ultimati del campetto in via Franco Biaggio, praticamente alle spalle del comune, hanno scelto una soluzione innovativa per intitolare la struttura, chiederlo cioè ai cittadini attraverso un sondaggio lanciato sulla pagina Facebook dello stesso sindaco. Sono emersi molti nomi di ragazzi mai dimenticati dai rocchesi, tra cui il leone Catello Mari, ex calciatore della Cavese, ma la maggioranza ha indicato il compianto Cristian Campanile. Ecco il commento, emozionato del primo cittadino, che ha anche anticipato novità per la copertura dello spazio Giostrine di piazza Don Pompeo La Barca. Sappiamo che è un giovanissimo, tra l'altro ha giocato anche con la squadra del nostro paese, con la rocchesi, ci sono state segnalazioni anche per Catello Mari sicuramente o per altri ragazzi che sono scomparsi. Provvederemo anche nel tempo a intitolare a qualcuno di questi ragazzi altre strutture che abbiamo intenzione di fare sul territorio. Certamente non li trascureremo, però è stato scelto da molti il nome di Cristian Campanile e mi sembra, voglio dire, anche giusto ricordarlo. È stata un'iniziativa che stiamo già perseguendo da tempo, perché è un occhio particolare per i giovani e giusto che venga sempre dato, anche perché lo scopo di questo campetto, oltre che quello di dare possibilità ai ragazzi di giocare, è anche possibilmente di liberare la piazza dai ragazzi che giocano in piazza. Ho avuto varie segnalazioni, anche proteste, però ovviamente a questi ragazzi bisogna pure dare un'alternativa. Se li togliamo dalla piazza dobbiamo metterli da qualche altra parte, non è che li togliamo e non ne diamo alternative. Grazie.